Trissi, tutto è pronto, gli uomini a posto dietro, le frasi di rito dello starter partiti. Tomato Black, intanto c'è la notizia che si mette dietro McEnroe, terra che trema va in vantaggio con Voila la Profusion dal centro del cuneo, però Autofocus come l'ultima volta fa partenza e va davanti, subito sommersi, Voila la Profusion, Tomato Black all'esterno subito brillante, scatenate l'inferno, che va in linea con Autofocus e Voila la Profusion. E allora Autofocus è in vantaggio, Ingiuba Verde che ha all'esterno l'Amaranto di Voila la Profusion, terza corsia virtuale per scatenate l'inferno, poi Terra che trema e McEnroe, all'esterno Mersi in corda Tomato Black, penultimo nel frattempo Motivetto con all'interno Capitan Segreto ed in coda Tuscan Beauty, Autofocus, Voila la Profusion, scatenate l'inferno. I tre davanti a Tomato Black e terra che trema, fa la terza corsia anche McEnroe e la quarta Mersi davanti a Capitan Segreto che va di dentro e a Motivetto che va di fuori. Quando si entra in coda Tuscan Beauty, quando si entra addirittura Autofocus prova a allungare da scatenate l'inferno e Voila la Profusion. I tre allungano da terra che trema, di dentro Tomato Black e Capitan Segreto, poi all'argo di tutti invece Mersi, McEnroe all'argo ancora più all'esterno e Motivetto, Autofocus, Voila la Profusion, di dentro Capitan Segreto, poi scatenate l'inferno, terra che trema e Motivetto, Autofocus è in vantaggio da Capitan Segreto, Voila la Profusion, terra che trema e Tomato Black, Autofocus è in vantaggio, Autofocus, Voila la Profusion, Capitan Segreto. Aveva vinto ma la sensazione visiva dell'ultima volta è che avesse qualcosa in più da spendere, Autofocus raddoppia, Rosario Mangione per Silvia Casati, colori della Topeca, il verde e il giallo. Voila la Profusion, ne trova sempre uno che lo batte, prima o poi troverai il successo. Per la terza è stretta tra terra che trema, che all'argo di tutti copre Capitan Segreto e per il terzo posto si va dal giudice, 5-12 e poi mi dai l'altra inquadratura Nani Pieri per favore, almeno vedo chi c'è di dentro da terra che trema. Capitan Segreto è quello all'interno, poi il blu di Tomato Black, all'argo di tutti terra che trema, sesto è Motivetto e settimo, scatenate l'inferno. 5-12 e poi 11-9 e il set che dovrebbe essere quinto. In fotografia è tutto. ultima corsa Grazie a tutti.